ciao sono emiliano galli dell'agenzia immobiliare remaxi dal case oggi mi trovo in zona balduina a pochissimi passi dalla fermata del treno a piano in una via privata precisamente in via armando di luglio 40 quello che ti presento è l'appartamento circe un piano terra leggermente seminterrato perché entrando nella palazzina si scende una rampa di scale ma completamente fuori terra che è stato ristrutturato nel recentemente nel 2021 quando l'attuale proprietaria ha comprato la casa e ha un grandissimo punto di forza per essere in questa zona che vi faccio vedere subito perché è un esterno un giardino in parte verde in parte pavimentato quindi eccoci qui lì sopra come vi dicevo c'è l'accesso al palazzo quindi siamo leggermente seminterati come accadastamento ma poi a tutti gli effetti come vedete è fuori terra questo è uno spazio esterno di circa 30 metri quadri che potete sfruttare tantissimo nelle giornate che ci sono nei mesi che ci sono caldi e freschi a Roma quindi la particolarità appunto è che qui c'è questo spazio esterno vivibile e come vedete dalla casa la casa si prende benissimo perché c'è questa zona giorno con cucina a vista originalmente qui c'era un muro che è stato abbattuto per dare più convivialità all'ambiente però vedete la parte bassa è rimasta senza nessun tipo di problema quindi ben divisa la zona comitale cottura pranzo salottino e tutto quello spazio lì per una credenza e per il frigo il bagno che è un bagno con box doccia bagno comodo con la finestra che dà verso il giardino e poi c'è l'ingresso dove siamo entrati poco fa qui sulla sinistra e la camera da letto che è una camera da letto matrimoniale eccola qui le finestre della camera e del soggiorno sono in direzione di via Cesare di Fabrizio quindi ricapitolando mi trovo in via Armando di Toglio 40 l'appartamento è l'appartamento Circe è un piano terra ristrutturato con uno spazio esterno vivibile e penso che questa possa essere un'ottima opportunità per la tua nuova casa per un singolo e una coppia o anche per investimento ricordo che la metro a piano è veramente qui vicino se può essere una casa che fa al tuo caso, scusa il gioco di parole, contattami ciao 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 ciao